Sgominata la banda dei furti nelle scuole, sono tutti giovani attivi nella movida del Vomero, ma che spacciavano nelle piazze napoletane. I carabinieri hanno eseguito una misura cautelare in carcere, altre sette agli arresti domiciliari e due giovani invece sono ancora irreperibili. Sono accusati di associazione per delinquere, finalizzata allo spaccio di stupefacenti, detenzione, spaccio e furto aggravato in danno di un istituto scolastico. Le indagini sono scattate nel gennaio 2018 dopo un furto in una scuola media del Vomero, identificati i responsabili, sei giovani, tutti maggiorenni, che dopo aver divelto una inferriata posta a protezione dell'edificio scolastico, sono entrati nella scuola e hanno rubato computer e pianole elettroniche. Subito dopo il furto hanno nascosto la refurtiva nelle aiuole di Piazza Medaglie d'Oro per poi venderla a ricettatori nei giorni successivi. I militari hanno scoperto che i soldi delle refurtive venivano utilizzati per l'acquisto di stupefacenti da spacciare, in particolare hashish, marijuana e cocaina, tra Piazza Immacolata e Piazza Medaglie d'Oro, piazze molto frequentate da ragazzi minorenni e maggiorenni. Le cessioni, anche a minorenni, potevano avvenire con due modalità, o attraverso la cessione diretta in Piazza Immacolata ai clienti, o attraverso ordinazioni telefoniche. All'epoca dei fatti, uno degli indagati lavorava come barista in un bar di Piazza Medaglie d'Oro e cedeva le sostanze anche dal posto di lavoro.